Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, vi spiego come risolvere il problema riguardo al microfono su Whatsapp direttamente su Windows 10 e Windows 11 in questo caso se provi a chiamare qualcuno su Whatsapp ti dice che il microfono non funziona quindi in questo caso andiamo direttamente su sistema, vai su privacy e sicurezza, scendi fino a giù fino a trovare microfono scendi fino a giù fino a trovare Whatsapp, microfono disattivato, attivato, ora hai il permesso di usare il microfono su Whatsapp quindi in questo caso in questo piccolo tutorial questo era il problema da risolvere quindi dovevi dare il consenso a Windows di usare così il microfono su Whatsapp quindi in questo caso se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!